Questa azienda farà ogni anno 40 milioni di dollari in più di guadagno a tue spese. Di chi stiamo parlando? Te lo spiego dopo la sigla. È una notizia bomba degli ultimi giorni. Questa azienda svedese famosissima, che probabilmente avrai utilizzato anche tu, d'ora in poi farà 40 milioni di dollari in più ogni anno a tue spese. È una decisione subdola, ma che sicuramente sempre più aziende seguiranno nei prossimi mesi e anni. Ma nel mondo è pieno di aziende che fatturano più o meno soldi ogni anno. Ma perché in questo caso è così rilevante questa cosa? E perché possiamo letteralmente dire che questi soldi li stanno prelevando a te? Innanzitutto di chi stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di Klarna, azienda svedese famosissima, che tantissime persone, magari te compreso, utilizzano ogni giorno. Klarna infatti permette, a fronte di un acquisto, di suddividere il pagamento in tre comode rate. Che cosa significa? Ad esempio, vuoi comprarti un iPhone da 1000€ per risparmiare qualcosa, diciamo per rateizzare il pagamento, senza andare da una finanziaria con tutte le rotture di scatole che ne consegue, Klarna ti dice, guarda, ti tolgo 333€ adesso, 333€ tra un mese, 333€ un mese dopo ancora. Così facendo rateizzi rapidamente, senza interessi e soprattutto comodamente da casa, un qualsiasi pagamento. Il tutto collegandoci una carta di credito. Per capirci, questa azienda gestisce flussi di pagamento per circa 80 miliardi di dollari ogni anno. Ma perché Klarna guadagnerà d'ora in poi altri 40 milioni netti ogni anno a spese tue e probabilmente di tante altre persone che conosci? Perché Klarna ha deciso ufficialmente, d'ora in avanti, di sostituire il suo customer care, quindi praticamente la forza lavoro che risponde ai quesiti dei clienti, per ben due terzi, quindi parliamo del 66% della forza lavoro, con intelligenza artificiale. Se ad esempio Klarna prima aveva 1000 dipendenti che facevano il customer care, quindi il servizio clienti, oggi oltre il 60%, quindi oltre 600 di questi dipendenti, sono stati licenziati e rimpiazzati dall'intelligenza artificiale. Il tutto utilizzando un software non megagalattico, non parliamo di robe della NASA che, oddio, chissà di che cosa stiamo parlando, ma di una versione praticamente modificata di ChatGPT, lo stesso software che tutti noi possiamo utilizzare ogni sacro santo giorno per fare delle ricerche o avere degli spunti molto interessanti sfruttando appunto l'intelligenza artificiale. Quindi uno strumento che in realtà quotidianamente noi possiamo utilizzare per migliorare la nostra vita, da un certo punto di vista ce la sta rovinando. Perché, ok, magari tu non lavoravi per Klarna e non lavoravi nel customer care di questa società, però così come ha tolto il lavoro ad oltre 600 persone, un domani l'intelligenza artificiale, il lavoro, lo può togliere anche a te. Tuttavia, secondo Forbes, già nel 2023 Klarna aveva ridotto il suo customer care del 25% iniziando a sfruttare l'intelligenza artificiale. Quindi se sommiamo il 25% di allora e il 60% di oggi, capiamo che praticamente stanno rimanendo a casa la quasi totalità delle persone che lavoravano a Klarna. Parliamo di migliaia di persone rimaste a casa per colpa di un semplice software, che non solo sta togliendo il lavoro a queste persone, ma per assurdo lo fa anche meglio. Perché sempre seguendo le statistiche che sta dando Klarna ai suoi investitori, che annunciando queste notizie spera di attrarre ancora più investimenti a tutti coloro che appunto investono in azioni e similari, riusciamo infatti a devincere che oltre ad avere molti meno costi e profitti superiori a 40 milioni di dollari, già solo per aver attuato questa scelta, Klarna in realtà ha evidenziato anche un trend positivo dove le persone riescono a risolvere i loro problemi, quando contattano il servizio clienti, risparmiando tantissimo tempo. Cioè in media una risposta data dall'intelligenza artificiale è molto più profilata, utile e concreta di quella che dava magari un agente in carne ed ossa. Praticamente si ritrova ad avere un servizio clienti che parla oltre 35 lingue, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e riesce a rispondere anche in maniera più efficiente del 25%. Quindi, ripeto, i clienti sono anche più soddisfatti, oltre a far guadagnare di più all'azienda. Il tutto però con un risvolto etico e morale realmente negativo, ovvero più di mille famiglie si sono ritrovate di punto in bianco senza lavoro. Mille famiglie senza stipendio, senza solidità finanziaria, probabilmente senza un futuro, perché questo sta accadendo oggi a Klarna per il servizio clienti, ma un domani, pensaci molto attentamente, e magari un domani neanche troppo lontano, potrebbe accadere anche a te, con la tua azienda, con la tua posizione lavorativa. Ora, se fai il cameriere o lo chef, è difficile che l'intelligenza artificiale possa rubare il tuo lavoro. Anche se in un futuro non troppo lontano, magari saranno i robot a cucinarci un determinato tipo di piatto, o a portarci il piatto a tavola. Quindi, anche se lavori nel settore della ristorazione, butta un occhio a ciò che sta accadendo, perché un domani magari potresti rimanere senza lavoro. Però i lavori sicuramente più a rischio al giorno d'oggi sono proprio questi. Servizio clienti, amministrazione, contabilità, ma anche tutti quei lavori che riguardano documenti Excel, file, archiviazione di fatture, sicuramente un domani potranno essere facilmente sostituiti dall'intelligenza artificiale. Dunque, perché stiamo parlando di questo? Beh, perché non è un caso isolato. Oggi è successo in Svezia, domani sicuramente succederà in Italia, e molto probabilmente succederà a te o a qualcuno vicino a te. Infatti, tantissime aziende enormi che fatturano miliardi, come Google, Meta, che possiede poi Facebook, Whatsapp, Instagram, Apple, Amazon, eccetera, pur fatturando ogni anno di più rispetto all'anno precedente, in maniera molto avida, stanno continuando a licenziare persone. Perché? Perché guadagnano di più spendendo di meno. Non hanno il rischio che il proprio dipendente si faccia male, non hanno il rischio che una dipendente magari rimanga incinta, non hanno il rischio di ritorsioni sindacali, eccetera, eccetera, eccetera. Mille volte meglio prendere un robot, un'intelligenza artificiale, che zitto e muto fa il proprio lavoro, facendomi risparmiare soldi, tempo e rischi. E per quanto può sembrare una realtà autopistica, basti pensare che un anno fa l'intelligenza artificiale era malapena in grado di generare un video convincente, oggi a distanza di un anno, questo video che state guardando in questo esatto momento non è un trailer di un film, non è stato fatto da un regista famoso, ma è semplicemente un video realizzato dall'intelligenza artificiale. Guardate che cosa invece faceva l'intelligenza artificiale come migliori delle ipotesi un anno fa e vi renderete conto che l'evoluzione è stata rapidissima e in men che non si dica questa intelligenza potrà letteralmente spazzare via decine di migliaia di lavoratori e di lavori. Proprio su questo tema, pochi giorni fa, si è tenuto un evento relativo appunto all'intelligenza artificiale, all'impatto che sta avendo sul mondo del lavoro e sul come proteggersi da questa evoluzione, che poi è anche una rivoluzione non necessariamente positiva, ed abbiamo appunto esplorato tutte quelle soluzioni, tutti quei business, tutte quelle posizioni lavorative alle quali possiamo ambire al giorno d'oggi senza rischiare che l'intelligenza artificiale lo faccia al posto nostro. Ad esempio, se vai a fare il massaggiatore è impossibile che un'intelligenza artificiale possa massaggiare una persona. Detto ciò, non voglio annoiarti, se sei interessato a vedere la replica di questo evento che ha riscosso tantissimo successo perché è un tema super innovativo, clicca il link che trovi qua in descrizione perché puoi rivedere la replica e scoprire anche tu come proteggerti dall'intelligenza artificiale nel 2024. Perché ricordati che è importantissimo non dipendere da un lavoro. Un tempo avere il posto fisso, l'azienda leader grossa che ti pagava i benefit, magari ti dava anche la macchina aziendale, era un sogno. Mentre oggi lavorare per una grossa azienda è un grosso rischio, perché proprio perché si sono grosse aziende non vedono l'ora di guadagnare anche solo 100 euro in più all'anno, faranno di tutto per cacciarti, lasciarti senza lavoro e sostituirti con un'intelligenza artificiale. Perché ricordati che le aziende sono qui per guadagnare, non per dare un lavoro a te. Io sono Ludovico Cianchetta Vasquez di B&B Academy, mi raccomando iscriviti al canale e non perderti la replica in questo link qua in basso. A presto. Ah, quasi dimenticavo. Ricordati di non farti rubare il lavoro dall'intelligenza artificiale. Sbrigati finché sei in tempo.